Ben ritrovati ai conti in tasca, eccoci qui nuovo appuntamento della nostra rubrica settimanale dedicata all'economia, ai vari temi e argomenti che insomma interessano capillarmente la nostra vita quotidiana e ogni sfumatura che questo macro tema appunto dell'economia può assumere, ad esempio quella di cui tratteremo oggi in particolare perché oggi parleremo molto di formazione, di formazione tecnica, di formazione specializzata legata al mondo del lavoro ovviamente, al mondo del lavoro del nostro territorio, che alleremo l'argomento come sempre sul nostro territorio. Perché questa introduzione? Perché appunto andremo ad occuparci, a parlare in particolare delle opportunità, dell'offerta formativa dell'ITS Academy Meccanica e Informatica che ha sede a Lanciano ma che organizza corsi anche in altre città abruzzesi, tra cui Teramo. E per farlo abbiamo con noi ospite in studio il direttore dell'ITS Antonio Maffei. Benvenuto direttore. Grazie dell'invito. Grazie a lei per essere con noi. Ci siamo ormai, noi siamo in partenza diciamo, con le attività dell'ITS, diciamo le attività di questo nuovo biennio, perché poi i corsi hanno durata cadenza biennale e quindi andremo un po' a spiegare nel dettaglio quali figure forma l'ITS Meccanica di Lanciano e quali opportunità ci sono per i giovani del nostro territorio. Intanto per introdurre un po' l'argomento in particolare, ma in generale come facciamo sempre, per dare anche un'informazione sul contesto economico del nostro territorio, partirei subito, anche grazie alla regia di Gianluca Jezzoni, con un servizio che fa il punto sull'attuale situazione economica del nostro Paese, alla luce dei dati diffusi dall'ISTAT nell'ultima nota mensile sull'economia italiana, quella pubblicata e quella relativa al mese di agosto, e cioè quindi al secondo trimestre dell'anno in corso, del 2023. Tanti dati utili che ci daranno anche lo spunto per introdurre l'argomento insieme al nostro ospite. Vediamo. Nel secondo trimestre, dopo l'aumento registrato nei tre mesi precedenti, in Italia il prodotto interno lordo ha segnato una flessione dello 0,4%. La variazione acquisita per il 2023 è ora pari a 0,7%. Anche nell'area euro, il PIL del secondo trimestre è stato rivisto al ribasso, a 0,1% congiunturale, da 0,3% della stima preliminare. La spesa delle famiglie ha mostrato un aumento per i servizi e beni durevoli, mentre gli investimenti hanno registrato il calo più marcato tra i principali aggregati del PIL, meno 1,8%. La contrazione è stata determinata in particolare dalla flessione della spesa in abitazioni e fabbricati. Dal lato dell'offerta, tra aprile e giugno, il valore aggiunto delle costruzioni e dell'industria ha registrato i cali congiunturali maggiori. A luglio, segnali negativi sono giunti invece dal settore manifatturiero. L'indice destagionalizzato della produzione industriale è diminuito dello 0,7%. L'occupazione, per la prima volta nell'anno, a luglio ha segnato una flessione, portando il tasso al 61,3%, con una diminuzione di 0,2 punti rispetto a giugno, ma rimanendo di 1,1 punti più elevato rispetto a luglio 2022. L'occupazione è calata prevalentemente tra i dipendenti a termine, lievemente tra gli autonomi, mentre tra i permanenti è risultata sostanzialmente stabile. La disoccupazione è aumentata rispetto al mese precedente dell'1,9%. E' restato comunque negativo il saldo tendenziale del numero di disoccupati, che in un anno è diminuito del 3,8%. Infine, i prezzi. In base alla stima preliminare, ad agosto la variazione tendenziale dell'Indice Nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività è stata pari a 5,5%, dal 5,9 di luglio. La variazione acquisita per il 2023 è rimasta stabile a 5,7%. A luglio i prezzi dei beni energetici hanno mostrato una lieve flessione ed è proseguito il rallentamento delle quotazioni dei beni alimentari, al 9,8% dal 10,5. L'inflazione di fondo, misurata al netto delle componenti più volatili dell'Indice, ad agosto ha rallentato ulteriormente a 4,8% dal 5,2 di luglio. E anche il carrello della spesa, pur rimanendo ancora su valori elevati, ha mostrato una decelerazione, 9,6% dal 10,2 del mese precedente. Allora, questi i dati dell'Istat che fotografano un po' la situazione nel nostro paese, un rallentamento della nostra economia, in particolare anche per quanto riguarda l'occupazione, una lieve contrazione a luglio, la prima volta quest'anno che si registra una lieve contrazione, pur se i dati generali rispetto allo scorso anno sono comunque migliori. Mi aggancio a questa statistica, a questi dati, direttore, per chiederle appunto l'ITS in generale. Gli ITS, in Abruzzo sono sei gli ITS, ognuno dedicato, specializzato ad un settore economico specifico. In particolare l'ITS meccanica e informatica di Lanciano, che risposte può dare al territorio in termini di occupazione? Allora, io partirei dal dato che viene pubblicato trimestralmente da Union Camere. E questo dato ci dice che ogni mese circa 100.000 posti di lavoro in Italia non vengono occupati perché mancano i profili professionali adeguati ad occupare quei posti di lavoro. Questo è un dato che cozza poi con chiaramente il tasso di disoccupazione che abbiamo, a livello, diciamo, sia generale, ma soprattutto a livello giovanile, che si aggira quasi intorno al 20%. Allora, questo dato va interpretato proprio grazie a quello che viene chiamato il mismatch, offerta domanda di lavoro. Cioè, praticamente, che cosa succede? Che chi forma i profili spesso non è allineato rispetto alle richieste del mondo del lavoro. E qui parliamo di mondo scuola, mondo formazione, anche accademico spesso, universitario. Sì, tutto il sistema, diciamo, istruzione e formazione presente in Italia. Gli ITS sono stati introdotti, ITS sta per istituti tecnologici superiori, sono stati introdotti nell'ordinamento nazionale dal Ministero della Pubblica Istruzione, non ce lo dimentichiamo, perché sono scuole nazionali, non regionali, e sono stati introdotti proprio per avvicinare i ragazzi e la formazione dei ragazzi al mondo del lavoro. Quindi per dare una risposta di questo tipo, attraverso quella che viene chiamata una formazione duale, che è la vera novità per il sistema di formazione italiano. Perché, insomma, entriamo subito nello specifico, diciamo che il modello di gestione, il modello poi quindi anche formativo, nell'organizzazione dei corsi degli ITS, prevede una partecipazione diretta delle aziende, delle imprese, no? Esatto, cioè gli ITS si localizzano dove sono presenti le aziende di quel settore che richiedono quel tipo di competenze. Ed è per questa ragione che noi siamo venuti fino a Teramo. Ecco, perché appunto da quest'anno, possiamo dire, c'è questa novità, l'ITS di Lanciano che apre un corso anche a Teramo. Allora, un po' di storia. Noi siamo localizzati a Lanciano perché Lanciano è il centro più vicino alla Val di Sangro. E la Val di Sangro, come tutti sappiamo, in Abruzzo ha la più alta concentrazione di aziende del settore automotive presenti in tutta la regione. Ci sono i principali poli, insomma, produttivi del settore. Le aziende più importanti, no? Che occupano il maggior numero di addetti. Sia dal punto di vista dei fatturati, sia dal punto di vista degli addetti e sia anche dal punto di vista proprio dell'importanza, no? In termini anche di dipendenti presenti. Parliamo di oltre 20.000 addetti solo nella provincia di Chieti. Ora, ovviamente che succede? Che piano piano, no? Noi operiamo dal 2012 per quanto riguarda la formazione. Ci siamo accreditati nei confronti delle imprese e man mano è avvenuta anche un'evoluzione tecnologica nell'ambito delle aziende del settore meccanico e diciamo di automazione in generale. E tutte le aziende, grazie a quello che è la transizione verso industria 4.0 e adesso si parla addirittura di 5.0 si spinge verso un'automazione sempre più forte. Questo fa sì che i profili che noi formiamo, che sono dei profili prettamente di meccatronica, cioè... Vogliamo spiegare un attimo anche questa parola, no? Che cosa va ad identificare? Allora, fino a 10-15 anni fa bastava la parola meccanica, no? Per descrivere il profilo più richiesto dalle aziende, soprattutto dell'automotive. Piano piano l'elettronica si è fatta spazio all'interno di queste aziende, soprattutto grazie all'automazione. Automazione significa processi automatizzati, significa l'introduzione di robotica e quindi ha fatto sì che anche i profili richiesti da queste aziende si evolvessero. E quindi si parla di meccatronica sempre più preponderatamente, piuttosto che di semplice meccanica. Insomma, anche il profilo dell'operaio, diciamo, classico, come magari nell'immaginario collettivo può essere il metalmeccanico, no? È cambiato nel corso del tempo. Assolutamente sì. Non bastano più le competenze fornite dalla semplice scuola, quindi dal semplice diploma, anche di una scuola tecnica, come può essere un istituto industriale o anche un istituto professionale. Ma sono richieste competenze in ingresso un pochino più alte ed è per questo che sono entrati in campo gli ITS, nel caso specifico della meccatronica. Sono entrati in campo anche per rispondere, appunto, ad un'esigenza che il mondo delle imprese e del lavoro non riusciva a sanare o a soddisfare con i classici corsi di studio degli istituti superiori, degli istituti tecnici e professionali? Certo. Bisogna dare un qualcosa di diverso rispetto all'offerta formativa. Esattamente. E la cosa ancora più interessante è che di fatto ormai tutto il settore manifatturiero utilizza sistemi di meccatronica. Quindi non è importante se un'azienda produca i furgoni o le moto o i bulloni, ma anche aziende che producono, per esempio, che si trovano nel settore agroalimentare o aziende che si trovano nel settore farmaceutico, utilizzano sistemi di automazione che richiedono competenze in meccatronica. Ed è per questo che i nostri allievi trovano subito lavoro. Ormai noi abbiamo il 100%... Avete dei dati che giustificano, testimoniano questo? Noi abbiamo il 100% di occupati a un anno dal diploma e addirittura il 70% dei nostri studenti viene contrattualizzato durante il percorso. Quindi non deve neanche finire il percorso. Perché, come dicevamo, c'è già comunque... Perché le aziende stanno dentro. ...il contatto diretto con le aziende. Adesso magari lo spiegheremo un po' meglio, tra un po' anche con un'altra intervista, un altro contributo. Però, prima di entrare nello specifico, appunto, anche dell'offerta formativa, della tipologia di corsi, dei ragazzi, delle figure che qui sono rivolti, perché diciamo subito che per iscriversi e accedere ad un ITS bisogna possedere un diploma. È un corso post-diploma. Spieghiamo meglio qual è proprio il modello di gestione, come... da chi sono gestiti gli ITS e come vengono decise le strategie, in un certo senso, formative degli ITS. Allora, gli ITS sono delle fondazioni. Questo per legge nazionale. E sono delle fondazioni dove dentro troviamo le scuole, in particolare scuole tecniche, nella nostra fattispecie. troviamo l'università. Noi siamo collegati all'Università dell'Aquila, Facoltà di Ingegneria Meccanica. E troviamo soprattutto le aziende. Questi soggetti, tutti insieme, non fanno altro che progettare i profili di cui il mondo del lavoro ha bisogno, non in questo momento, ma bensì almeno ad un orizzonte di due anni, perché il corso dura due anni. E noi sappiamo che l'evoluzione tecnologica all'interno di tutti i processi produttivi è talmente elevata che quello che può essere utile oggi, magari tra due anni non sarà più utile. E allora si fa questo sforzo di progettazione, soprattutto con le aziende, perché loro hanno delle strategie, ovviamente conoscono quali sono le evoluzioni a cui loro stesse devono rispondere per rimanere competitive. e quindi stabiliamo quelli che sono i programmi dei corsi. Questo fa sì che il programma che noi andiamo ad attuare e a far seguire ai nostri studenti non è mai uguale. Ogni anno cambia leggermente, o in alcuni casi anche in maniera più pesante, sulla base di queste evoluzioni tecnologiche. Proprio perché c'è il contatto diretto, il rapporto diretto col mondo delle imprese e del lavoro. Nel caso specifico di Teramo, allora dicevamo che da quest'anno è in partenza quindi anche un corso organizzato a Teramo, nello specifico, se non sbaglio, presso l'Istituto Tecnico Industriale di Alessandrini Marino di Teramo. Come è nato appunto questo rapporto? Come siete arrivati? Insomma, diceva prima che siete all'Anciano come sede, siete all'Anciano per la vicinanza con la Val di Sangro, la provincia di Chieti, che è un po' il bacino storico dell'automotiva. Certo. Però anche la provincia di Teramo appunto fa la sua parte, no? Esatto, perché qui c'è un'altra concentrazione, magari non così estesa come quella della Val di Sangro, ma comunque interessante, da parte di aziende che utilizzano sistemi di meccatronica e di automazione, che stanno un po' spalmate su tutti i settori, quindi non solo il settore meccanico in senso stretto, ma anche, ripeto, agroalimentare, piuttosto che per quanto riguarda il lavorazione legno. Da dove c'è una linea produttiva, diciamo così, c'è oggi la richiesta. Il lavoro si è evoluto, quindi con la ricerca di queste figure, di queste figure tecniche specializzate, no? Esattamente. E quindi sono state queste aziende a chiedere all'ITS, proprio perché avevano un fabbisogno importante per quanto riguarda queste figure, da impiegare nei loro sistemi produttivi e ci hanno chiamato per organizzare un percorso di studi in modo da avere queste stesse figure, le figure, diciamo, che noi storicamente formiamo nell'area della provincia di Chieti, anche qui in provincia di Teramo. Dove c'è appunto questa richiesta specifica. E quindi abbiamo coinvolto parecchie aziende che hanno questa necessità. E questo determina che il percorso in qualche modo è già, tra virgolette, garantito per chi si appresta a iniziare a iscriversi a questo corso. Perché dentro ci stanno già le aziende che ci offriranno i loro tecnici super specializzati per formare nuovi ragazzi. Quindi aziende che offrono sia la formazione direttamente, sia la possibilità ai corsisti, agli studenti, di introdursi immediatamente nell'ambiente di lavoro. Da questo punto di vista, annunciavo prima un altro contributo, andiamo ad ascoltare insieme adesso. È un'intervista realizzata con il presidente della sezione Automotive di Confindustria a Teramo, Marco Matteucci, che spiega appunto il lato azienda di tutto quanto questo ragionamento che stiamo facendo. Perché proprio Confindustria, sezione Automotive, ha e ha avuto un ruolo importante per l'inaugurazione, l'apertura di questo corso dell'ITS meccatronica anche a Teramo. Allora, ascoltiamo Matteucci, le sue considerazioni, cosa ha da dirci e poi lo commentiamo insieme. Secondo il rapporto che trimestralmente viene prodotto da Union Camere in collaborazione con Ampal, sono proprio i tecnici meccatronici e gli informatici i profili più ricercati dalle aziende. Vale questo anche per il settore automotive in particolare e più in generale per il manifatturiero? Sono queste le figure più difficili da reperire? Ma vale per l'automotive? Sì, direi soprattutto per l'automotive. Quello che noi abbiamo avuto modo di scoprire sin dalla nascita della sezione è proprio il fatto di che tutte le aziende associate facendo parte della sezione hanno sete di questa figura tecnica. E poi, e non con sorpresa, abbiamo scoperto che anche al di fuori della sezione ci sono aziende che ne hanno bisogno, ne hanno fortemente bisogno. Perché sono così importanti per le aziende queste figure? E quali ruoli e compiti vanno a svolgere all'interno delle aziende? Allora, sono figure importanti perché, come dicevo, sono tecnici meccatronici, sono tecnici che vanno poi a garantire l'interconnessione tra le macchine e l'accessibilità dall'esterno, ma anche quella che potrebbe sembrare banale, cioè il rispetto dei requisiti di sicurezza, cioè la certificazione CE. È importante per le imprese avere a che fare con dei profili lavorativi lavorativi giovani, ma già formati, in un certo senso, quindi già pronti per essere subito immessi nel ciclo produttivo. Più che importante, direi che è fondamentale. Tenete conto che oggi questo tipo di tecnici comunque non si trova molto sul mercato. Questo che cosa vuol dire? Che le aziende sono costrette a formarli internamente, facendo fare dei costi anche piuttosto onerosi, senza sapere poi quale sarà la formazione e il ritorno di questi investimenti. L'obiettivo è appunto quello di crearci queste figure in casa, facendo in modo che possano essere assunti direttamente. Che ruolo ha Confindustria, in particolare la sezione Automotive, nell'organizzazione a Teramo di questo nuovo corso dell'ITS Meccatronica? Il ruolo è quello di, all'inizio, di aver ascoltato l'esigenza delle aziende, quindi quella di soddisfare il bisogno di questi tecnici meccatronici. Poi, fattivamente, Confindustria, insieme alle sue associate, metterà a disposizione i tecnici per insegnare all'interno di questi corsi, che ricordiamo avranno il 60% dei docenti composti da personale messo a disposizione proprio dalle aziende. Posso dire che ci sono aziende grandi che stanno facendo sempre più richiesta per queste cose. All'interno del settore Automotive, dicevo, tutte, ma guardandosi un attimo fuori mi piace citare aziende come Faraone Industria che comunque sta collaborando tantissimo e supportando Confindustria come associata affinché questo progetto prenda NASCA per non parlare poi di Amadori, della Freudenberg, insomma, spaziamo veramente a 360 gradi. Allora, direttore, abbiamo sentito proprio in chiusura con Matteucci citare aziende che sono di un po' i diversi settori produttivi, quello che dice appunto lei, oggi le figure di tecnici specializzati, tecnici meccatronici sono appunto richiestissimi da tutte le aziende. e mi viene poi da commentare che diciamo il modello ITS, la proposta formativa dell'ITS alla fine porta a guadagnare tempo un po' per tutti sia per i giovani che vogliono quindi subito emettersi nel mondo del lavoro sia per le aziende che quindi non hanno nei costi nei tempi necessari per la formazione interna di queste figure, possono farla direttamente durante il percorso di studi dell'ITS. Questo sì, è verissimo e fa sì che questi percorsi possano essere gratuiti per i ragazzi perché in pratica per iscriversi anzi approfitto per dire che le iscrizioni sono aperte in questo momento informazioni dirette specifiche sono aperte fino al 30 di settembre quindi c'è la possibilità ancora per iscriversi tranquillamente questo sabato faremo un open day a Lanciano proprio anche per dare più informazioni per chi si vuole anche come dire mettere alla prova per quanto riguarda i test d'ingresso e comunque dicevo che questo coinvolgimento così forte delle aziende fa sì che il percorso sia gratuito perché loro contribuiscono attraverso il mettendo a disposizione il loro personale aziendale alla realizzazione del percorso in più le aziende mettono a disposizione quelli che noi chiamiamo project work i project work non sarebbero altro che periodi di tirocinio quello che in inglese chiamiamo learning on the job cioè imparare facendo così che i ragazzi maturino un'esperienza piuttosto importante perché il project work praticamente dura 800 ore sulle 1800 di tutto il percorso ITS quindi una parte preponderante diciamo che è una parte molto importante e fa sì che il ragazzo in qualche modo sviluppi un'esperienza che può mettere sul proprio curriculum e quindi anche nel caso in cui questo project work non desse poi la possibilità di trasformarsi in un contratto di lavoro per quell'azienda assolutamente può essere rivendibile e l'abbiamo constatato ormai da diversi anni nel settore di riferimento assolutamente io approfitto anche per ricordare che a proposito di iscrizioni anche di appuntamenti come quello per l'open day del 23 settembre le informazioni sono presenti sul sito dell'ITS che è www.itsmeccanicaabruzzo.eu lo vediamo lo vediamo in questo momento proprio in onda eccolo qua le chiedo anche direttore appunto rispetto alle informazioni relative alle iscrizioni i corsi hanno un numero di posti stabilito sono a numero chiuso parlava di un test di ingresso quindi c'è una selezione anche all'ingresso allora i corsi ITS sono completamente gratuiti per l'utenza però sono a numero chiuso quindi che vuol dire che c'è una selezione in ingresso l'aula che noi formeremo a Teramo sarà costituita da 25 studenti e le selezioni consistono essenzialmente in un test scritto e in un colloquio già dalla fase di selezione in ingresso le aziende sono coinvolte e quindi il colloquio verrà svolto direttamente da quelli che sono i responsabili delle risorse umane delle grandi aziende del territorio quindi delle grandi aziende del Teramano che metteranno a disposizione i loro esperti HR per selezionare i ragazzi che entreranno a far parte dell'aula in questo modo posso aggiungere l'ultima cosa in questo modo l'azienda si fa carico dall'inizio dei ragazzi che entreranno in aula quindi dal primo momento della scelta l'azienda si fa carico di questi ragazzi e poi li condurrà verso tutto il percorso di sviluppo delle competenze tipiche di un profilo meccatronico è un vero e proprio investimento in risorse umane da parte delle aziende informazione e selezione delle risorse umane necessarie all'azienda qual è la qualifica che si ottiene al termine del corso di studi allora la qualifica che noi diamo è praticamente in verità non è una qualifica ma è un diploma di quinto livello EQF viene chiamato che è quindi riconosciuto a livello comunitario cioè a livello europeo e si chiama diploma di tecnico superiore nel caso specifico per la meccatronica e l'automazione e in pratica è un diploma che consente gli accessi anche ai pubblici concorsi nel caso in cui uno volesse per esempio fare poi concorso nella scuola ma anche in altri ambiti riconosce anche la figura di meccatronico per quanto riguarda gli autoriparatori per esempio e noi poi rilasciamo cosa molto importante i crediti per l'università per chi volesse continuare gli studi anche a livello universitario noi riconosciamo un bel pacchetto di crediti per la facoltà di ingegneria che quindi insomma vengono riconosciuti dalla facoltà universitaria e quindi agevolano il percorso eventualmente il percorso accademico successivo la cosa interessante è che l'utenza a cui ci rivolgiamo noi è un'utenza fatta di ragazzi che vogliono subito entrare nel mondo del lavoro che hanno la voglia subito di mettersi in gioco nel mondo del lavoro però come abbiamo detto prima non bastano le competenze fornite dalla scuola quindi occorre quel di più che si ottiene attraverso un percorso come questo fatto con le aziende ma la cosa interessante è che molti ragazzi sviluppano durante il percorso ETS gli ritorna la voglia di studiare e quindi perché si appassionano ancora di più alle materie tecniche noi non è che insegniamo italiano storia e geografia noi insegniamo soltanto si presume già aver appreso precedentemente ma noi formiamo solo su materie tecniche spesso professionalizzanti e abbastanza specialistiche quindi il ragazzo può sviluppare di nuovo la voglia di tornare a studiare queste materie tecniche approfondire qualche aspetto degli aspetti specifici e quindi continuare in un percorso che lo porterebbe verso quello che si chiama il sesto livello EQF a livello comunitario insomma una proposta un'offerta molto interessante competitiva da più punti di vista e che tra l'altro per concludere che ci abbiamo a conclusione come ITS meccanica e informatica di Lanciano voi proponete diversi diversi corsi quindi sono sei se non sbaglio in generale nell'offerta formativa dell'ITS sei percorsi che partiranno tutti nel 2023 ricordiamo che tutti i percorsi partiranno entro il 30 di ottobre quindi alla fine di ottobre e chiaramente saranno dislocati su diversi sedi del territorio abruzzese perché noi vogliamo essere un ITS diciamo che risponde alle esigenze delle aziende di tutto l'Abruzzo in verità noi siamo attrattivi anche nei confronti di regioni limitrofe perché ai nostri corsi si iscrivono anche ragazzi dal Molise piuttosto che della Campania piuttosto che dalla Puglia addirittura abbiamo un ragazzo dalla Sicilia quest'anno questo perché perché chiaramente l'Abruzzo avendo a disposizione un sistema industriale piuttosto sviluppato piuttosto forte e che spesso non viene preso abbastanza in considerazione dagli stessi abruzzesi offre delle opportunità in termini di qualità anche di qualità del lavoro molto molto interessanti e quindi per chi voglia sviluppare competenze tecniche ovviamente legate al mondo dell'impresa e della manifattura qui si può sbizzarrire assolutamente e c'è quindi come ci ha detto appena lei chi coglie questa opportunità anche da altri territori da fuori regione bene noi siamo in chiusura siamo in conclusione del nostro spazio quindi non ci resta che invitare chiunque fosse interessato ad approfondire l'argomento e poi magari anche a insomma per percorrere questa strada questo percorso di studi così innovativo rappresentato dall'ITS ringrazio Antonio Maffei per essere stato con noi e averci accompagnato nella scoperta e nell'approfondimento insomma del mondo ITS grazie a voi per lo spazio grazie a lei grazie grazie di nuovo noi ci fermiamo qui con questo appuntamento dei conti in tasca da noi appuntamento sulla del gioco di parole come sempre alla prossima settimana grazie e arrivederci grazie a tutti grazie a tutti